Un punto mi pare di dover sottolineare che è indispensabile ribadire. Noi siamo stati il paese che ha salvato mezzo milione di vite umane, più di mezzo milione di vite umane nel Mediterraneo. Non saremo il paese che chiuderà gli occhi sui diritti umani riguardo i centri in cui vengono trattenuti i migranti in Libia.